Giuseppe Garibaldi come incontrò Anita? Sembra che Garibaldi abbia visto Anita con un cannocchiale da lontano e fu subito affascinato dalla sua futura moglie. Si racconta che lui appena la vide gli disse tu sarei mia. Famosissima è la relazione d'amore fra Garibaldi e la sua Anita. Grazie per la visione! Ciao ai prossimi video vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!